Noi abbiamo organizzato questa lotteria come associazione di commercianti per raccogliere un fondo per rinvestirlo nel paese, in servizi, per organizzare eventi culturali, per intrattenimento da qui e all'estate prossima. Abbiamo partecipato tutti e ringrazio tutti i colleghi per le attività che ci hanno dato una mano importante, ringrazio Anna Maria Milo e Adele Mazzone che sono state preziosissime, l'amministrazione comunale che ha organizzato queste due sere di intrattenimento. Grazie per la visione Siamo contenti, c'è stato un bel risultato, molta collaborazione e siamo contenti soprattutto perché in questi ultimi giorni noi abbiamo deciso di donare una parte del ricavato un euro su ogni biglietto venduto e sceglieremo se il modo e le modalità della donazione alle comunità colpite dal terremoto. E niente, siamo contenti, soprattutto è contento chi ha vinto la macchina. Ma immagino sì. E i programmi per il futuro, quali sono i prossimi progetti? A settembre faremo un resoconto delle cose che sono andate bene e delle cose che sono andate meno bene quest'estate e organizzeremo la programmazione per l'inverno, la primavera e l'estate dell'anno prossimo. I soldi ottenuti in questa lotteria verranno rinvestiti in servizi per i cittadini del paese e gli ospiti del paese in attività, eventi culturali e di intrattenimento.